buongiorno buonasera a tutti sono Emanuele di impossible works and luter vi comunico che il 26 di dicembre a mezzanotte uscirà il nostro speciale di natale a bloody red christmas con nove recensioni di film horror ambientati appunto nel periodo natalizio con il sottoscritto con il mio primo corto horror di eye of eliten e fra l'altro approfitto per anticiparvi l'uscita del nostro nuovo speciale dedicato ai vostri corti di ogni genere sempre sui nostri canali cinematic creators grande cinema con marco e l'oscuro signore personaggio inquietante il laboratorio del dottor morte profilo facebook il pazzo dell'horror le opinioni di un signor nessuno nuovissimo mille film the dead cinema e per finire si ringrazia andreo per la gentile collaborazione e mi raccomando non perdetevi tra l'altro l'intervista ad argento all'interno del nostro speciale quindi vi aspettiamo numerosi e soprattutto buone feste a tutti grazie 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 a tutti.